Il futuro dell'economia globale, le ricadute sociali e politiche della crisi, questi gli argomenti di cui si è discusso nel corso della presentazione del libro di Fabrizio Saccomanni crepe nel sistema la frantumazione dell'economia globale, evento organizzato dalla Fondazione Salvatore di Marco Salvatore presso l'Unione degli Industriali di Napoli. Il rischio di frammentazione del sistema economico globale non è stato mai così elevato, questa l'analisi di Saccomanni, economista che è stato direttore generale della Banca d'Italia e ministro dell'economia e delle finanze nel governo Letta. Ho guardato alla realtà attuale pensando anche un po' al futuro, cioè uno scenario globale in cui le grandi potenze globali come gli Stati Uniti e la Cina diciamo svolgono un ruolo molto attivo, hanno delle strategie economiche, politiche, commerciali, mentre invece l'Europa è un po' come dire introversa e quindi dovrebbe svolgere un ruolo più attivo sulla scena globale. Il mezzogiorno è una parte importante di un piccolo paese come l'Italia sulla scena globale, quindi noi abbiamo bisogno che il sistema globale resti aperto al commercio, agli scambi e allora chiaramente il mezzogiorno anche con la proiezione nel Mediterraneo può svolgere un ruolo importante. Se invece si va verso il protezionismo commerciale, la chiusura dei mercati, evidentemente il mezzogiorno rischia di soffrire più delle regioni che sono meglio integrate con l'Europa del Nord. Il dibattito, organizzato dalla Fondazione Salvatore in collaborazione con l'Unione degli Industriali di Napoli, la Fondazione Castel Capuano e l'Ordine dei giornalisti della Campania, fa parte delle iniziative promosse dalla Fondazione per favorire il dialogo e il confronto culturale nel mezzogiorno d'Italia. Saccomanni è una personalità veramente di grandissimo spicco e di grandissimo rispetto per quello che ha fatto durante tutto il suo percorso professionale. È inutile ricordare qui le cariche che ancora attualmente ha e come vede chiaramente, secondo me, una visione dell'economia che non può essere più assolutamente una visione locale o nazionale, ma deve essere solamente una visione globale. L'Europa può farcela, può combattere forse con gli Stati Uniti e con la Cina, solo però se unia, veramente unita nelle sue varie espressioni e nella politica che vuole fare a livello europeo. A mio avviso, come per la ricerca, io penso di essere un ricercatore e quindi questo è stato il mio stimolo, nella ricerca come nell'economia non bisogna pensare che uno più uno fa due, ma uno più uno e quindi l'Unione fa tre o quattro, perché solo lavorando insieme veramente potremmo fare qualcosa e non essere schiavi di questi grandi domini che hanno le grandi industrie, i grandi produttori, le grandi e le grandi banche del mondo che non sono più a livello né nazionale né europeo, ma prendono e quindi un'economia globale. Questa è l'unica realtà, dobbiamo superare anche nel campo economico, i personalismi e le cose personali per vedere in maniera globale. La Campania e il Sud in generale può avere un ruolo, deve avere un ruolo perché la Campania ha prodotti di tutti i tipi, dai prodotti agricoli ai prodotti tecnologici di grande qualità e deve trovare dei mercati che non possono essere solo i mercati del nord Italia, ma debbono essere i mercati mondiali e il mercato cinese a mio avviso è molto promettente per tutto, anche per l'agricoltura.